direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 3 gennaio il jackpot ha raggiunto la cifra di 340 milioni 757 mila 831 euro il più alto al mondo e mai raggiunto nella storia del super enalotto le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora al via all'estrazione del concorso numero 1 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire sui numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 8 siamo al secondo numero con super enalotto finisce già a vincere secondo numero estratto è il numero 51 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 71 pronti per il quarto numero quarto numero estratto è il numero 34 e adesso scopriamo il quinto numero che fa le porte alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 10 è il momento di incrociare le dita stiamo a pre completare la sostina vincente il sesto numero estratto è il numero 30 dopo questi numeri che segnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme al cinque numero della sostina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 numero jolly di questa sera è il numero 20 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 8, 51, 71, 34, 10, 30, numero jolly e il numero 20 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite e superano l'8 fino a 100 volte premio anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 27 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 1 per la sostina vincente in ordine crescente 8, 10, 30, 34, 51, 71, numero jolly 20, superstar 27 l'estrazione di oggi martedì 3 gennaio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 340 milioni e 700 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 1 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del Supranalotto assegna 841 mila e 10 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 340 milioni e 700 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di Supranalotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 342 milioni e 200 mila euro abbiamo però due vincite con punti 5 più 1 realizzate nella ricevitoria Sisal di piazza Umberto I 31 a Letto Manoppello in provincia di Pescara e nella ricevitoria Sisal di via Loreto Gallinara 1 a Modica in provincia di Ragusa vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 i 2 5 più 1 si aggiudicano 532 mila 35 euro ciascuno i 5 sono 10 e vincono 34 mila 377 euro ciascuno i 4 sono 1298 e vincono 270 euro ciascuno i 3 sono 48 mila 309 e vincono 21 euro ciascuno i 2 sono 708 mila 326 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 405 mila 101 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 10 e vincono 27 mila 10 euro ciascuno i 3 stella sono 273 e vincono 2 mila 182 euro ciascuno 100 euro vanno i 4 mila 15 due stella 10 euro 26 mila 137 uno stella e 5 euro e 52 mila 630 zero stella inoltre 205 vincite da 50 euro ciascuna e 30 mila 850 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Superonalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiore informazione consultate il sito superanalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Superonalotto vi dà appuntamento a giovedì 5 gennaio e giocheremo per un jackpot di 342 milioni 200 mila euro arrivederci Grazie per la visione